ah ma l'avete trovato allora ma bravi bravi che lavoro di squadra che lavoro di squadra ragazzi da buia porta porta qua porta lascia ciao a tutti bentornati sul trapple for dummies la cerca del tartufo per novellini oggi passeggiata con tabuia e timorasso una delle prime che facciamo insieme come potete vedere c'è un sacco di neve quindi non abbiamo grosse pretese di lavoro ma voglio vedere un po dopo aver sviluppato questa relazione adesso con me da circa una decina di giorni come si muove se risponde al vieni intanto ecco di qua che stanno arrivando tutte e due se risponde al vieni come si comporta con tabuia nel caso magari tabuia dovesse bucare se si sviluppa della possessività o altro un po come si relazionano insomma un po come come viene condotto il guinzaglio è già super timorasso adesso vediamo vediamo un po nel bosco sarà un video breve in cui farò vedere dopo una decina di giorni di relazione come come sta andando con tim insieme anche oggi a tabuia nel rogotto romagnolo ecco qua che copia via 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 no vediamo un po ma delle loro prime uscite insieme senza grossi guinzagli lasciandoli un po liberi di muoversi vediamo un po la signorina come si comporterà e il signorino anche ancora parecchia neve ma sembra che l'ultima è venuta giù l'altro ieri vediamo un po un po di cacchina la ragazza è al lavoro vediamo se sente qualcosa anche il ragazzo ovviamente ha capito qual è il gioco ciao team grande esploratrice vediamo se timorasso cosa ne penserà di questa cosa da vieni vieni qui si timorasso tu lo so che arrivi anche tabuia arriva è brava lei la neve è tanta ma proviamo a mettere giù quel nasino santo grazie a tutti 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 ah ma l'avete trovato allora bravi bravi che lavoro di squadra che lavoro di squadra ragazzi da buia porta porta qua porta lascia pura miseria che l'hai tirata fuori sta buia bene a venire un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.